A Temptation Island, signori, sappiamo che ci sono presenti sette coppie che stanno partecipando al programma. Ci sono però in mezzo a queste sette coppie anche Isabella e Manu, questa coppia che sta facendo un po' più parlare rispetto alle altre, almeno in questa fase iniziale. Manuel Murascio e Isabella Recalcati sono fidanzati da ben tre anni e mezzo. Vivono tutti e due a Milano, ma provengono da realtà totalmente differenti. Lui vive in un quartiere popolare mentre lei vive al centro e proprio queste differenze hanno portato non pochi problemi alla coppia. A chiamare Temptation Island è stato lui che, nonostante sia innamorato della fidanzata, non riesce a trovare un punto d'incontro su dove cercare casa. Almeno questa è la versione dei fatti dichiarata durante il video di presentazione della coppia, perché secondo diverse segnalazioni a scrivere a Temptation Island sarebbe stata Isabella. A fornirlo è Giusy Alemanno, che ha partecipato ai casting di Temptation Island lo stesso giorno di Isabella e Manuel, insieme al fidanzato Salvatore. Secondo quanto scrive fanpage.it, ragazza sostiene che Isabella abbia costretto il fidanzato Manuel a partecipare, inviando la candidatura a sua insaputa. Con il solo scopo di entrare nel mondo della tv è tutto falso, lui è stato costretto da lei. Lei ha fatto la domanda con il nome di lui solo per entrare in tv, ha scritto Giusy sotto al post di presentazione della coppia. Ora una nuova segnalazione su Isabella e Manuel. Segnalazione che addirittura parla di un amico speciale nella vita della ragazza. A riportare la segnalazione di Yanira Marzano, conosco molto bene la signorina Isabella, quella che sta partecipando con Manuel a Temptation Island. Beh fosse solo il problema che lei pare sia classista. Nel nostro ambiente di lavoro, che è lo stesso, si vocifera che abbia anche un amico speciale. Ma c'è anche chi è intervenuto per parlare del fidanzato Manuel, che nel corso di Temptation Island si è lamentato del comportamento di Isabella. Conosco benissimo Manuel e Isabella. Lui è davvero così, vive nel quartier Tessera, è zona di Cesano Boscone, e cerca di dare tutto per lei. Lei molto altezzosa e lo tratta davvero male. Quello che dice Manuel è verissimo. Poi hanno svelato il finale, tutto finto, sì. Cioè lui è davvero succube e vittima, ma sono dentro per le telecamere. Sono usciti insieme. Cari amici, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione. Mi raccomando, lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like. E se non siete iscritti, iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina. Oh, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip, tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo, vi saluto, mi raccomando, vi aspetto al prossimo video. Ciao, un saluto da Max.